Musica Ci troviamo qui a Kandi nel cuore culturale dell'isola di Sri Lanka per assistere al singolare festival delle Zara Peraera, una delle più affascinanti feste di tutta l'Asia. La Peraera, che significa processione, rende omaggio alla reliquia del sacro dente di tutta. Lunghe parate di elefanti riccamente bardati, accompagnati da migliaia di danzatori e percussionisti che suonano i tamburi, fanno scocchiare le fruste e sventano bandiere colorate. Uno spettacolo straordinario che ricorre ormai da molti secoli. Andiamo quindi a immerdici in questa cultura kandiana per assaporarne i costumi e i suoni attraverso le sensazioni che produce questo festival. Musica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.